Fano non fa una promozione adeguata, non sappiamo vendere i nostri eventi e non viene valorizzata la bassa stagione. Sono concordi Renzo Capecchi di Confcommercio, Luciano Cecchini degli alberghi consorziati e ammedeotarsi di Union Camping che insieme al sindaco e all'assessore al turismo Marchegiani hanno stilato una bozza degli eventi estivi. Secondo loro solo queste sarebbero le manifestazioni in grado di attirare turisti e di mettere in risalto la città come la quale marathon che porta un bacino di 2000 persone negli alberghi, la notte rosa, quella romana o la festa del mare da portare a due giornate di iniziative, mentre l'evento su cui puntare già dal 2016 sarà il Carnival Jets in programma per loro dal 20 al 29 giugno. Il riferimento è strettamente legato alla città di New Orleans dove ha un carnevale di strada sommato al Jets che praticamente è nato lì. Per cui vorremmo fare, l'idea sarebbe questa, di fare di Fano la città, la New Orleans dell'Adriatico. Dovrebbe essere fatta non a luglio-agosto quando abbiamo gli alberghi pieni, ma dal 20 giugno al 29 giugno. Abbiamo 44 alberghi che a luglio-agosto sono già pieni e quindi hanno bisogno di dilatare la stagione estiva. Cecchini invece ha proposto la fusione con le città limitrofe come Pesero e Senigaglia, ma solo per quanto riguarda gli eventi, in modo da poter proporre ai visitatori un'ottima offerta turistica. È tornato a parlare inoltre della concorrenza abusiva. Non solo controlli ai bed and breakfast, alle aree camper, perché manca quell'introito dell'abusivismo e delle strutture aperte che non sono neanche regolari. Controlli sollecitati in passato anche dal prefetto, ma chi ha questa competenza? È il comune in questo momento, è il comune che ha in mano questa potenza per fare questi controlli. Secondo Cecchini c'è l'assenza di controlli sul pagamento della tassa di soggiorno e visto che in questo Aset Holding ha il compito di ricevere i bollettini, ha spiegato, e visto che per svolgere questa funzione prende 45 mila euro l'anno, perché non gli si affida anche il compito di controllare? Amedo Tarsi invece prosegue la sua battaglia per ampliare e mettere a norma le aree di sosta per i camper comunque non sufficienti nella città di Fano. Sono 60 mila presenze abusive, è assurdo perderle perché se ci fossero delle aree di sosta dove puoi dare il documento, vieni segnalato e praticamente fa presenza, è tutto un altro discorso. Tarsi torna a proporre l'ampliamento del parcheggio situato vicino al cimitero centrale di Fano, dovrebbe essere recintato, dice, e affidato ad una Ollus. Perché se no diventa come adesso un campeggio per Zingari, perché lì c'hanno l'acqua, c'hanno lo scarico, è chiaro che si mettono le roulotte e i camper all'inverno degli Zingari ed è assurdo questo discorso qui. E continuano a stare lì per diversi giorni? Sì, per diversi giorni, è chiaro.